Proseguiamo il corso World 2016 parlando ora della formattazione del testo. Nella lezione precedente abbiamo parlato della selezione, cioè l'operazione che ci permette di scegliere su quale porzione di documento lavorare e ora parliamo appunto della formattazione, cioè della modifica dell'aspetto estetico di un testo. Quindi se andiamo per esempio a selezionare questi tre paragrafi iniziali del nostro documento possiamo formattarli perché la formattazione di un testo può avvenire sia su un'unica parola selezionata che su un insieme di parole selezionate. Dove troviamo le opzioni di formattazione del testo? Nel gruppo carattere della scheda Home. In questo gruppo carattere della scheda Home noi troviamo le funzionalità per esempio che ci permettono di inserire il grassetto, il corsivo e le sottolineature e il comando che ci permette di scegliere quale font, quale carattere e quale dimensione di carattere utilizzare. Quindi se noi per esempio dovessimo modificare il carattere Calibri con un altro carattere come può essere Arial, vedete che effettuiamo una formattazione perché non abbiamo modificato il testo vero e proprio ma soltanto la sua parte estetica. Con la dimensione possiamo aumentare o diminuire il carattere di scrittura, la dimensione viene definita in punti, di default Word utilizza 11 punti come dimensione del carattere, noi possiamo aumentare questo valore a 12 ma oltre che far apparire questo menu a tendina con la dimensione del carattere ricordiamoci che possiamo anche scrivere quella che è la dimensione del carattere, ad esempio 13, all'interno del riquadro appunto di dimensione carattere. Poi adesso rimettiamo la dimensione da 13 a 11, poi abbiamo parlato di grassetti corsivi e sottolineature che si usano fondamentalmente per evidenziare una parte del testo, per esempio se qui prendiamo costo e livello di servizio possiamo dopo averli selezionati assegnare loro un grassetto, quindi il grassetto si usa per evidenziare una parte di testo, la sottolineatura si usa per evidenziare una parte di testo normalmente un'intera frase e il corsivo invece si usa per evidenziare delle parti che hanno un significato decisivo nella comprensione del testo, quindi spesso anche qui si usa il corsivo per evidenziare alcune parole che danno appunto il senso a quella frase. Non bisogna comunque mai abusare di questi stili perché alla lunga infastidiscono la lettura. Altri pulsanti interessanti sono quelli di colore carattere che ci permette di modificare appunto il colore di scrittura, basta aprire il menu a tendina per trovare tutti i colori che fanno al caso nostro, in questo caso abbiamo scelto un blu e poi anche, sempre se selezioniamo una porzione di testo, anche questo pulsante evidenzia testo ci permette di evidenziare appunto il testo selezionato come se stessimo usando un evidenziatore, vedete, è come se avessimo evidenziato con un evidenziatore questo titolo o comunque questa porzione di testo. Un altro stile particolare che si può utilizzare all'interno dei nostri documenti di Word è lo stile barrato, ecco il pulsante che permette appunto di barrare una parola come se la volessimo cancellare ma rendendo visibile comunque la parola che abbiamo cancellato. Questo stile si usa molto nei documenti legali, mentre in altri ambiti è praticamente inutilizzato. Teniamo presente che pulsanti come grassetto, corsivo, sottolineatura e barrato sono dei pulsanti acceso spento, quindi ovviamente se è stato assegnato questo stile a una porzione di testo basta riselezionarla e spegnere lo stile in questione per tornare alla situazione precedente. Noi adesso, o per meglio dire, in precedenza avevamo modificato il font di scrittura, il carattere di scrittura, teniamo però presente che all'interno di uno stesso documento si usa sempre lo stesso carattere, l'unica distinzione tra tipi di carattere la si può fare per i titoli e per le porzioni di testo, ma all'interno del testo si utilizza sempre lo stesso carattere di scrittura, quindi ovviamente noi adesso dobbiamo assegnare lo stesso carattere di scrittura anche al resto del documento, per cui come abbiamo visto prima ci mettiamo nella riga successiva rispetto a ciò che abbiamo selezionato, o meglio ciò che abbiamo formatato con il carattere Arial, andiamo a fare CTRL SHIFT FINE per selezionare tutto il documento e assegniamo a questo documento appunto il carattere Arial, mantenendo però la dimensione a 11 punti, in questo modo il nostro documento risulta, lo vedete, uniforme dal punto di vista della scrittura, altrimenti cambiare il carattere da un paragrafo all'altro dà un effetto decisamente poco piacevole. Concludiamo dicendo che nel gruppo carattere della scheda home abbiamo il pulsante a forma di freccia che apre la finestra di dialogo della quale abbiamo già parlato in precedenza, qui troviamo delle opzioni aggiuntive, per esempio l'ombreggiatura o il contorno, che sono delle opzioni estetiche, dicevamo, in più rispetto a quelle che troviamo nella scheda carattere e poi nella linguetta, nel cavaliere avanzate troviamo altre opzioni ancora, ad esempio le proporzioni e soprattutto la spaziatura del nostro testo che permette di aumentare o ridurre con le voci espansa e ridotta la distanza fra le lettere del testo che abbiamo selezionato. Quindi attenzione alla formattazione del carattere che è una caratteristica fondamentale per creare dei documenti efficaci usando Word.